Uno. Questo è il mio tavolo. Due. Questo è il mio letto. Tre. Questa è la mia ragazza. Quattro. Questa è la mia penna. Cinque. Questo è il mio diario. Sei. Questo è il mio cane. Sette. Questo è il mio vestito. Otto. Questo è il mio ragazzo. Nove. Questo è il mio anello. Dieci. Questo è il mio lavoro. Tu. 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 Tu